Il 31 marzo ricorre l'anniversario della scomparsa di René Gros, che è morto a Roma nel 2004. Quando Gros morì aveva 95 anni e gli aveva appena compiuti il 4 febbraio. Gros era nato a Rimini nel 1909 ed è sepolto pure a Rimini nel cimitero monumentale della nostra città all'ingresso. Appena si entra in cimitero, il monumento funebre dedicato a René Gros si trova sulla destra. Dalla parte opposta, a sinistra, c'è il monumento funebre dedicato a Federico Fellini e a Giulietta Masina. Seppure il 2020 è l'anno felliniano, è anche un anno importante per il rapporto tra la città di Rimini e René Gros, perché 20 anni fa, nel 2000, il Museo della città di Rimini dedicò per la prima volta un'esposizione permanente dedicata a René Gros. Questa esposizione fu concordata con lo stesso Gros, che decise tra il 2000 e il 2002 di donare alla città di Rimini una consistente parte del suo archivio affinché si potesse realizzare questa sezione permanente e anche per costituire il nucleo di quello che oggi chiamiamo archivio Gros e che è costituito dal primo lascito ed evoluto da René Gros e l'ascito che nel tempo si è incrementato grazie ad acquisizioni che il comune di Rimini ha effettuato e anche grazie a donazioni che ha ricevuto. L'archivio Gros quindi consente di raccontare la storia di questo grande artista che è considerato forse uno dei più celebri, famosi disegnatori, illustratori di grafica pubblicitaria del mondo e attraverso le opere dell'archivio si è compiuta una selezione e che ora è esposta al Museo della città di Rimini. Questa esposizione è stata realizzata alcuni anni fa quest'anno c'è l'idea di far girare i materiali e quindi di vivacizzare questa sezione permanente esponendo nuove opere e quelle che comunque attualmente sono esposte raccontano l'evoluzione grafica di René Gros dagli anni 20 gli anni in cui René Gros incominciò a lavorare come illustratore nelle redazioni di riviste di moda. La prima rivista di moda per cui lavorò è Lidl una rivista che era diretta concorrente della rivista parigina più famosa Vogue e che era una rivista di alto livello e Gros realizzò per questa redazione le prime sue illustrazioni di moda. Gros raccontava che c'era un grandissimo lavoro perché naturalmente le case di moda producevano collezioni che andavano poi pubblicizzate e il disegno era l'unico modo per pubblicizzare le creazioni. Gros quindi ha lavorato inizialmente per delle case di moda italiane lavorando anche per altre redazioni e tenendo come punto di riferimento l'area milanese. Poi negli anni 30 si è trasferito con la madre a Parigi e a Parigi incominciò a collaborare con altre riviste più internazionali non solo Vogue ma anche l'officiel della moda, Marie Claire, Elle e a Parigi Gros si trasferì e visse a Parigi gli anni che ne consolidarono la fama internazionale. Questa fama internazionale arrivò con una collaborazione con la Maison Dior. Christian Dior e René Gros erano molto amici e quando nel 1947 Dior presentò la sua prima collezione che fu battezzata dalla stampa americana New Look qualche mese dopo decise di produrre un profumo che chiamò Miss Dior e affidò all'amico Gros che ancora non era un grafico pubblicitario di fama internazionale decise comunque di affidare a René Gros la campagna pubblicitaria di questo profumo. Gros racconta che pensò a lungo come realizzare l'illustrazione di questo profumo che doveva rappresentare la femminilità della nuova donna Dior. Gros decise allora per la prima volta nella storia della grafica pubblicitaria di non illustrare la boccetta del profumo ma tutto quanto quel profumo evocava e quindi la femminilità in particolare l'ideale femminile che Gros e Dior condividevano. Per questo Gros realizzò due disegni che sono diventati molto celebri si datano fra il 47, il 48 e il 49 e sono costituiti da un cigno truccato e ingioiellato e da un disegno che illustra invece una zampa di un leopardo accarezzata da una mano femminile guantata. Ecco, con queste due immagini nasce anche la celebrità del profumo Miss Dior per cui Gros continuò a lavorare anche negli anni successivi e risale a 1955 un bel disegno che è esposto al Museo della Città. Grazie a questo sodalizio con la Maison Dior Gros poi continuò a lavorare per... anzi, incominciò a lavorare con marchi internazionali molto famosi e anche marchi del Made in Italy. Nonostante infatti vivesse in Francia tra Parigi e Cannes Gros continuò sempre a collaborare con aziende italiane in particolare vorrei ricordare il sodalizio con l'azienda Benberg. La Benberg era un'azienda di Novara che diventò famosa per la produzione di un filato artificiale che riuscì a sviluppare agli inizi del Novecento, il famoso filato Cupro. Il filato Cupro era un filato molto lucente che riusciva ad imitare la seta ed era ideale per realizzare le fodere. Queste fodere con il tessuto Cupro erano quelle che si trovavano negli atelier di moda più importanti, di quelli che realizzavano la sartoria di alto livello maschile e femminile. Forse qualcuno di voi ricorderà di aver visto questa marca in una sartoria oppure in una vecchia giacca che avete in casa o che comunque avete visto. Questa collaborazione con la Benberg iniziò negli anni Cinquanta e durò fino a quasi gli anni Novanta. Questa collaborazione è interessante perché consente di mostrare da un lato la storia del marchio e anche la storia dell'evoluzione grafica di René Gros che non rimase mai statica. Gros aveva una caratteristica. Il suo talento riguardava anche la sua capacità di saper con pochi tratti evocare la rappresentazione, l'immagine che voleva dare allo spettatore lasciando spazio all'immaginazione di quest'ultimo. Questo è stato, credo, il suo più grande talento. Un talento che gli ha consentito di continuare a lavorare anche quando dagli anni Cinquanta la fotografia soppiantò praticamente il lavoro degli illustratori di grafiche pubblicitarie mentre Gros fu uno dei pochi a continuare a lavorare io credo per questo suo talento nel saper essere molto molto efficace e quindi tante aziende preferirono affidare la rappresentazione dei propri marchi alla mano di René Gros.